ciao ragazzi oggi voglio portare al limite o quasi per quello che riguarda l'fcc in lombardia il mio drone lo porterò a 2000 metri di distanza beh ragazzi sono sincero ho avuto paura perché comunque 2000 metri non sono 200 metri eh sì comunque li tiene, li tiene, grande drone di GS Park